Ripetuti e continui atti vandalici sono stati perpetrati a danno dello spazio K di Katia Licari, uno spazio culturale sito nei presti di Via Licata, in pieno centro storico. A segnalarlo e ad esprimere vicinanza e solidarietà a Katia Licari è oggi l'assemblea permanente del Movimento 5 Stelle di Sciacca, che al tempo stesso denuncia la scarsa attenzione che l'amministrazione comunale rivolge alla cultura. Prova né l'esigua quota della tassa di soggiorno destinata al settore, scrive l'assemblea. Si tratta di un atto di vigliaccheria mosso dai gnoti che non hanno certamente a cuore la cultura e che probabilmente si rispecchia in quella poca attenzione dimostrata anche dall'amministrazione comunale, che della tassa di soggiorno ha investito sulla cultura appena l'11%, a dichiararlo come detto i componenti dell'assemblea del Movimento 5 Stelle, in riferimento all'atto vandalico subito dallo spazio K. Negli ultimi anni, spiegano gli attivisti, si è assistito enermi al progressivo impoverimento di proposte culturali, anche per la mancanza di spazi dedicati, cosicché chi fa cultura o propone eventi culturali si trova costretto a spostarsi in altre città, oppure prova a crearli in spazi privati. Riteniamo pertanto che la prossima amministrazione dovrà essere capace di riportare la cultura al centro dell'attenzione collettiva, individuando spazi e risorse certe da investire. La sciacca carnevale centrica, aggiungono, ha in questi anni mortificato tutti gli operatori culturali, rendendo l'offerta monotematica, con investimenti sfaccetamente rivolti solo a questa manifestazione, concludono i grillini. Oltre alle polemiche politiche, permangono anche quelle legate al vandalismo, al controllo del territorio e al miglioramento del comune senso civico. Non si può permettere periodicamente, infatti, a qualche stupido di danneggiare spazi e manufatti pubblici e privati. Occorre avere maggiore amore per sciacca e per i luoghi comuni, che siano essi destinati o meno alla cultura.